Senti, tu a me un cornino con la Sofia Loren me lo faresti. Con chi? Con la Sofia Loren me lo faresti. Ma no, no. Perché? Ma perché, perché non è il mio tipo. E allora perché mi hai sposato. Ma che c'entra? Ma come cosa c'entra? Io sono somiglio tutta spessicata da Loren. Tu? Tu somigli a Loren? Se prendi l'identica, lo dicono tutti. Ma chi lo dice? Tutti lo dicono, l'ho sempre detto tutti quanti che ho somigliato. La mia mamma, per esempio. Non sai che la mia mamma tutte le volte che vuole vedere un film della Sofia Loren che la Sofia Loren alla fine muore e la mia mamma piange perché vede la sua bambina che muore, poverina. La Sofia Loren non è mai morta in un film. E la mia mamma piange lo stesso. E poi tu a me mi fai venire nervoso perché tu devi sempre contraddire quello che dico io.